Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali della legatrice PT23200. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxiofficina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. La legatrice PT23200 si distingue per la sua capacità di ottimizzare le operazioni di legatura mirata a incrementare la produttività e minimizzare lo sforzo fisico. Equipaggiata con due batterie a litio da 14.4V e 2.5Ah, questo strumento garantisce un'autonomia prolungata che permette di operare continuativamente senza necessità di frequenti ricariche. In termini di performance, la legatrice PT23200 offre una potenza nominale di 30W, con l'opzione di incrementare fino a 50W per trattare materiali di maggiore resistenza. La facilità d'uso è garantita da un design ergonomico e un'interfaccia intuitiva, che rendono la legatrice PT23A200 immediatamente accessibile anche per gli utenti meno esperti. In conclusione, la legatrice PT23200 rappresenta una soluzione eccellente per chi desidera migliorare l'efficienza e la praticità nelle operazioni di legatura. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.